Fine settimana disastroso per le 13 formazioni ennesi impegnate nei quattro campionati regionali di calcio. Bilancio solo con tre vittorie, due pareggi e ben otto sconfitte. Nel campionato di eccellenza la Leonfortese pareggia fuori casa contro il Rocca di Caprileone per 1-1. Sconfitta casalinga per la San Sebastiano contro il Profavara per 3-1. In classifica la Leonfortese prima con 54 punti, ultimo posto per la San Sebastiano con 8 punti, retrocessa in promozione. Nel campionato di promozione il Troina sconfitto fuori casa dall'Aci San Filippo per 4-2. Brutta sconfitta casalinga per la Gira Nistoria, il Giallo rifila un rotondo 5-0. Ai Giallo Rossi in classifica il Troina è tredicesimo con 19 punti, la Gira Nistoria è quindicesima, ultima con 15 punti. Nel campionato di prima categoria la Barrese perde ancora, questa volta fuori casa contro l'Atletico Caltanissetta per 3-1. Tonfo contro la capolista Gela per lo Sporting Catena Nuova che subisce un autentico cappotto, perdendo per 11-0. In classifica la Barrese è terza con 45 punti, lo Sporting Catena Nuova è decimo con 25 punti. Nel campionato di seconda categoria, Girone C, questi i risultati della ventesima giornata. Geraci-Trinacri a 1-2, Libertas-Cerami-La Vigneta 2-4, Real-Catena Nuova-Branciforti 1-0, Valguarnerese-Città di Gangi 2-2. In classifica la Trinacri è prima con 39 punti, Real-Catena Nuova è sesto con 31 punti, settimo posto per la Vigneta con 30 punti, nona la Branciforti con 24 punti, undicesima la Valguarnerese con 16 punti, dodicesima ed ultima la Libertas-Cerami con 6 punti, retrocessa. In terza categoria, le Gironelle, Comunità Frontiera, Polisportiva Palma, 0-4, la squadra di Pietra Persia in classifica è terza con 34 punti.